Siamo stati seguiti molto bene dalle ragazze di Brescia che ci hanno aiutato anche a capire come posizionare sia il letto che il divano all'interno della stanza, quindi ci hanno aiutato moltissimo anche in fase di progettazione dandoci anche dei suggerimenti, quindi abbiamo massimizzato gli spazi nel modo migliore in base alle nostre esigenze. Le linee che ricordano comunque l'ambiente naturale, dalla pietra agli alberi, diciamo che è un ambiente che fa trovare proprio agio. Questo in particolare è tutto molto bello, quello che sto vedendo oggi, non ho visto ancora tutto però sono sicura che mi piacerà tutto. Oltretutto, oltre la linea, devo dire che c'è anche una forte qualità. Nei materiali, è tutto molto confortevole, molto comodo, direi che è una scelta azzeccata. Speriamo presto magari di poter ripetere l'acquisto di qualcos'altro. Ciao, mi chiamo Fabio e sono di Seregno, sono stato invitato a questo evento Berto in quanto già cliente per aver acquistato un divano un paio d'anni fa. Devo dire, sia io che mia moglie siamo molto soddisfatti dell'acquisto e quindi non perdiamo occasione per venire a vedere novità o comunque nuove uscite della linea Berto. La cosa che ci piace di più è la qualità dei materiali, trovo molto di qualità, con dei toni sobri che mi sembrano molto caldi e danno molto l'ambiente di casa. Sono una cliente Berto da credo almeno dieci anni, qui stiamo a un divano e una poltrona The Queen, credo che si chiami, bellissima. Infatti ogni volta che arrivano persone in casa notano la bellezza del prodotto. Ma soprattutto mi ricordo che ci colpì molto il proprietario, la persona che ci accolse in laboratorio Ameda, una persona veramente molto carina. Mi ricordo come trattava le sue persone, come ci presentava il prodotto, la sua passione, la sua storia. E questo ci è rimasto assolutamente nel cuore ed è per quello che siamo venuti a questo evento, che è magnifico, un evento veramente bellissimo, che a differenza di tutti gli eventi del fuori salone ha una particolarità, che colpisce un po' il cuore delle persone.